carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica oggi 7 agosto leggiamo nel libro di geremia del profeta geremia capitolo 17 versi da 5 fino a 8 è scritto e qui il signore che parla maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal signore egli è come una tamerice nel deserto quando giunge il bene egli non lo vede abita in luoghi aridi nel deserto in terra salata senza abitanti benedetto l'uomo che confida nel signore la cui fiducia è il signore egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto la parola di dio ci insegna che abbiamo due alternative fondamentali nella nostra vita e cioè credere nel signore oppure respingerlo la parola di dio non solo ci indica le due alternative ma ci invita anche a fare una scelta e l'invito è quello di servire il signore scritto infatti in gesue 24 15 scegliete oggi chi volete servire naturalmente nel farci questo invito non ci costringe ci invita appunto e ci ammonisce che una scelta sul fatto che una scelta sbagliata produce delle conseguenze spiacevoli mentre una scelta giusta ha delle conseguenze salutari nella nostra vita maledetto l'uomo che si confida nell'uomo e il cui cuore si ritrae dal signore questo è il massimo della stoltezza eppure quanti confidano nell'uomo nella proprio nella tua capacità sono sempre più numerosi perché dio nella nostra società è stato messo mai quasi da parte ci si ricorda soltanto per lamentarci di lui per maledirlo per chiedersi perché non interviene è strano che facciamo questo se noi abbiamo escluso dio se noi diciamo che dio non esiste se noi diciamo che dio non deve avere nessuno spazio nella nostra vita di cosa ci dobbiamo lamentare ma dio ci aiuti invece ad essere delle persone sagge perché ci dobbiamo rendere conto che tanto male c'è in questo mondo proprio perché dio è stato allontanato e questo ci dovrebbe spingere a ricercare dio nella nostra vita e a proclamare dio quanti non lo conoscono perché solo in questo modo ci potrebbe essere un minimo di giustizia nel mondo nella società in cui noi viviamo il signore ci aiuti quindi a non confidare nella nostra forza nella forza degli altri ma ci aiuti invece a confidare nel signore e a credere che nel suo nome ogni cosa è possibile e che il suo soccorso è di gran lungo migliore del soccorso che ci può essere dato da parte dell'uomo confidare infatti nell'uomo significa essere come una tamerice in una pianura sterile sto ora citando la riveduta e questo ci porta quando giungi il bene a non vederlo perché vivendo una vita arida e vuota inevitabilmente ci sentiamo sempre nel dolore non riusciamo neanche a ringraziare dio per tutti i favori che riceviamo ogni giorno la vita il cibo quotidiano eccetera eccetera siamo sempre lì a lamentarci perché non ci basta ma niente perché non riusciamo a realizzare che tutto ciò che abbiamo è una conseguenza della grazia di dio c'è quindi chi fa questa scelta ma c'è grazie a dio gloria a dio e spero che tra questi ci siamo ognuno di noi coloro che scelgono invece di confidare nel signore questi sono benedetti e confidare in dio è l'alternativa che ci viene caldeggiata da parte del signore ed è una scelta saggia è un giusto indirizzo che noi prendiamo e questo perché la presenza del signore l'aiuto del signore il soccorso del signore è qualcosa che ci accompagnerà tutti i giorni della nostra vita e come dice la parola di dio il braccio dell'eterno al contrario del braccio dell'uomo non è mai un braccio corto non è mai un braccio debole ma anzi esso è un braccio potente che è capace di poter arrivare laddove l'uomo non arriva e di operare ciò che l'uomo è incapace di poter compiere bene letto quindi colui che confida nel signore perché è vero che può incontrare difficoltà è vero che si può trovare in situazioni spiacevole ma il signore è quello che lo libera è vero che può cadere ma il giusto cade sette volte il signore ogni volta lo rialza è vero che si può trovare in mezzo alle acque ma non verrà sommerso è vero che si può trovare in mezzo al fuoco ma non verrà bruciato è vero che può attraversare l'anno della succità ma egli non è in affanno anzi continua a portare frutto continua ad essere una sorgente a sua volta di benedizione per quanti sono intorno a lui e allora qual è la nostra scelta quella che vogliamo fare oggi quella che vogliamo fare per la nostra vita confidare in noi stessi confidare nell'uomo allontanarci dal signore oppure avere piena fiducia in dio ed avere il desiderio nel cuore di servirlo e di amarlo riflettiamo cari e scegliamo oggi di fare la volontà del signore ne avremo del bene l'anima nostra sarà un'anima beata e soprattutto avremo la certezza di ereditare la vita eterna perché questa c'è stata già provveduta in cristo gesù suo figlio quando sulla croce ha dato la sua vita e quando il terzo giorno è resuscitato dai morti primizia di tutti coloro che un giorno lo vedranno faccia a faccia quando egli tornerà per rapire la sua chiesa la grazia la pace l'amore nella presenza del signore sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme